Musica E' stato varato un nuovo servizio di trasporti che collega i comuni della Valdigno e vari luoghi di interesse paesaggistico, storico e culturale del circondario. Si tratta della navetta Alpis-Graia che servirà ai comuni di La Salle, Morgé e Latuilio transitando dal Col San Carlo e raggiungerà i 2200 metri del Colle del Piccolo San Bernardo tra Italia e Francia. L'iniziativa si inserisce in un programma di valorizzazione dell'Espace Mont Blanc realizzato all'interno del più vasto programma di cooperazione territoriale trasfrontaliera Italia-Francia-Alp 2007-2013 e punta a promuovere una forma di mobilità rispettosa dell'ambiente e vicina alle esigenze di residenti e turisti. Abbiamo la possibilità per i turisti di avere quattro navette giornaliere, quattro passaggi giornalieri che ti danno la possibilità di recarti su dei luoghi fantastici senza avere la preoccupazione della macchina, senza avere la preoccupazione del parcheggio, quindi senza creare anche quell'ingombro che molte volte crea una barriera tra il turista e l'ambiente di cui si vuole beneficiare, di cui si vuole fruire. Il servizio in vigore a luglio e ad agosto sarà sospeso il 5 settembre 2010 per poi essere riproposto la prossima estate. La navetta è stata presentata alla stampa alla presenza dei sindaci dei comuni della Valdigno a cui spetta nei prossimi mesi il compito di promuovere il progetto nei propri territori. Ma saranno i turisti e i residenti salendo a bordo a decretare l'eventuale successo della navetta della Valdigno. È un servizio sperimentale quindi sarà interessante già dopo il primo mese capire se il turista, se gli utenti hanno gradito una proposta di questo tipo. D'altronde i progetti Interreg sovente sono un ottimo strumento per sperimentare servizi nuovi e vedere se c'è il gradimento, se è stata un'idea azzeccata, se gli utenti, turisti soprattutto, rispondono positivamente a questi stimoli. Le tariffe variano a seconda dei chilometri percorsi. Si va da un minimo di un euro a un massimo di 3,20 euro. Le navette partono dal capoluogo di La Salla alle 7.15, alle 10.30, alle 13.15, alle 16.30 e impiegano un'ora o un quarto per compiere tutto il percorso. Dal capolinea al colle del piccolo San Bernardo le navette partiranno rispettivamente alle 8.40, alle 11.55, alle 14.40 e alle 17.55. Il servizio estivo di navetta sarà attivo fino al 5 settembre e in caso di successo sarà riproposto anche nei prossimi anni. Il percorso è stato studiato appositamente per accontentare varie tipologie di turisti e visitatori, ma anche i residenti. Cerchiamo di coprire i picchi della stagione turistica estiva. Fa diverse corse lungo la giornata, praticamente è un mezzo che dalla Salle scende a Morgé, sale al Col San Carlo, scende alla Tuile, poi sale fino al piccolo San Bernardo. Avanti e indietro tutta la giornata in modo da coprire anche chi vuole fare delle escursioni in montagna, e quindi parte anche presto al mattino e rientra nel tardo pomeriggio per raccogliere gli escursionisti che hanno ritenuto di usare un mezzo pubblico piuttosto che una solita vecchia cara auto privata per muoversi in montagna.